Partito Ritmo, azione Salve, vicequestra Regoletti Sono Alice Gentile, non so se si ricorda la conferenza stampa Le vorrei fare qualche domanda, se hai un minuto Sì, ma chi l'ha fatta entrare qua? Pensavo fosse un luogo pubblico Eh no, questa è un'area privata, arrivederci Lei conosce Pietro Zinni? Spinelli! Ma questo quando mi serve non ci sta mai Spinelli! Lei conosce o no Pietro Zinni? Senta, io non so veramente di cosa stia parlando Glielo dico io Pietro Zinni è uno dei primi produttori di Smart Drugs a Roma È accusato di vari reati Adesso si trova a Regina Celi in attesa di un processo Che continua ad essere rinviato Non si sa per quali motivi Molto strano Sì, perché sta facendo tutte queste domande a me? Che dovrei saperne io Perché i permessi Li firma lei Quindi abbiamo un detenuto comune Che continua ad uscire dal carcere come e quando vuole Si chiama libertà condizionale questa? È prevista dalla legge Legga il codice penale L'articolo 176 e 177 Che regolano la libertà controllata Prevedono una condanna definitiva E invece Zinni continua Che cazzo vuoi da me? Che cazzo vuoi? Dimmelo E allora stammi a sentire Non hai idea del casino in cui ti stai mettendo Perciò stai lontano dalla mia banda Hai capito? Che cazzo vuoi?